prova video in 4k da microsoft lumia 950 xl contro luce veramente ottima nel cambio fatemi sapere un po cosa ne pensate anche della stabilizzazione io in questo momento sto camminando andiamo adesso a fare una macro devo dire che la qualità dei video mi sembra veramente alta sia la capacità di gestire le diverse luminosità ed è il cambio di luminosità sia la capacità di gestire i colori e le vibrazioni fatemi sapere cosa ne pensate